Coriandoli, stelle filanti, un carro allegorico, gruppi mascherati, animazioni per bambini e tanta musica. È tutto pronto per il Carnevale in piazza Sant'Agostino. I commercianti, in collaborazione con Confesercenti e Confcommercio e con il patrocinio del Comune di Arezzo, hanno infatti organizzato la manifestazione carnevalesca in occasione del Marte di Grasso. Rappresenta un modo per promuovere e animare questa importante realtà commerciale di Arezzo che riteniamo abbia bisogno costantemente di essere valorizzata e posta l'attenzione al centro di quella che è la programmazione degli eventi. Vorremmo che questo sia anche uno stimolo per l'amministrazione, per l'assessore del commercio, perché ritorni piazza Sant'Agostino al centro del panorama degli eventi durante tutto l'anno, non solo durante il periodo del Carnevale ma anche nel periodo del Natale, che è un periodo importante, o nella primavera estate. La festa inizierà dalle 15.30 fino alla mezzanotte. Protagonista dell'evento, come sempre, sarà l'allegria. Ci saranno ovviamente il Carnevale per i bambini, quindi ci saranno il Trenini, arriveranno i Papatrol, le maschere di Castiglion Fibocchi. Sarà un Carnevale più per i bambini che per gli adulti, però aspettiamo anche gli adulti, se si vestono ci fa piacere ovviamente. La sera invece ci sarà un DJ set che partirà dalle 7.30 in poi fino a mezzanotte e lì ci sarà DJ Fabri Flake. In più, per questa occasione, il parcheggio di Sant'Agostino rimarrà aperto fino a mezzanotte e mezzo. Scusate, l'autorimessa di Sant'Agostino. Scusate, l'autorimessa di Sant'Agostino.